Quella che state vedendo nelle immagini girate dal nostro operatore è l'aria che la comunità montana del Matese ha messo a disposizione in modo gratuito all'Asl Caserta per la realizzazione della pista di atterraggio dell'aria ambulanza in caso di emergenza nel Matese. Sono ormai mesi fra incontri e pratiche che questo progetto salvavita non riesce a decollare. Eppure questo spazio avrebbe bisogno solo di un piccolo ritocco per poterlo rendere agibile pur rimanendo un piano B, come viene definito, rispetto alla costruzione di una pista ex novo nella struttura ospedaliera di cui si parla da decenni. Quasi certamente nello spazio offerto dalla comunità montana del Matese, nelle immagini, potrebbe invece finire il servizio 118. Per ora l'unica certezza è che i tempi per la realizzazione della pista di atterraggio nel Matese saranno lunghissimi. In attesa poteva essere approntato il piano B e rendere agibile subito lo spazio in attesa della pista nel perimetro ospedaliero, così come prevederibbero alcuni protocolli e avere da subito la pista per l'ambulanza al fine di salvare vite umane in caso di bisogno.